Matteo Paolillo, Edoardo Conte Sì, ciao a tutti Stavo ascoltando Massi e stavo pensando oggi gira molto il termine maturità intorno alla quarta stagione ed effettivamente siamo cresciuti noi e sono cresciuti i personaggi e mi ricordo di un momento quest'estate quando ci siamo incrociati io e Massimiliano ci siamo guardati e ci siamo detti siamo diventati grandi ed effettivamente poi questo l'abbiamo messo anche in una scena che abbiamo aggiunto poi con Ivan i personaggi sono cresciuti e quindi crescono anche le loro responsabilità e sono cresciuti molto in fretta eppure hanno comunque tanta voglia di rimanere adolescenti e sono chiamati a fare delle scelte molto importanti ad un'età in cui non dovresti fare queste scelte e quindi niente, volevo ringraziare tutti voi perché questo progetto continua sempre ad emozionarmi e evidentemente emoziona anche un pubblico molto vasto quindi grazie e vi ringrazio per essere parte di tutto questo e passo la parola a qualcun altro grazie a tutti grazie a tutti